I impegni, visto che oggi in aula a Montecitorio si è votato la legge di stabilità con ben tre fiducia. Buonasera Antonio Di Pietro. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Per precisare, noi dell'Italia di Valori non abbiamo votato tre fiducia, ma tre sfiducia, perché noi non crediamo a ciò che sta facendo il governo Monti, anzi crediamo che stia facendo del male agli italiani. Ed è buono precisare, ma noi naturalmente davamo per scontato, visto che l'Italia di Valori è l'unico partito insieme alla Lega che non ha mai votato a favore dei provvedimenti di Mario Monti. Ma la prima domanda che vorrei farla riguarda naturalmente anche la nostra azienda pubblica, riguarda la RAI, perché oggi l'Italia di Valori ha partecipato ad un flash mob per dire basta con il bavaglio per quanto riguarda i referendum del lavoro, in particolare l'articolo 18 e l'articolo 8. Io ringrazio la RAI in questo momento perché ho dovuto scrivere alla RAI perché c'era un silenzio assordante e devo prendere atto che oggi, grazie a voi, almeno a RAI News, fa sapere agli italiani che c'è una raccolta di firme per un grappolo di referendum. I referendum sono uno strumento di democrazia importantissima con cui noi stiamo cercando di far modificare due reggi fondamentali a favore del diritto dei lavoratori. Chi viene licenziato illegittimamente ed è certificato da una sentenza penale da una sentenza di un giudice deve essere riassunto. Secondo, quando si fa un contratto di lavoro ci deve essere un minimo sindacale se non si ritorna al medioevo in cui col tosso di pane si cerca di sfruttare il soggetto più debole. E poi in altri due referendum molto importanti contro la casta visto che in questo momento, proprio oggi, abbiamo affrontato una legge di stabilità che bisognava far quadrare i conti noi diciamo che i conti li possiamo far quadrare negli anni prossimi eliminando il finanziamento pubblico ai partiti che tanti danni sta provocando e alla credibilità dei partiti e alle casse dello Stato ed eliminando il doppio stipendio dei parlamentari. Invitiamo i cittadini, anche e soprattutto quelli che non votano in Italia i valori di non spaventarsi quando vendono i gazebo dell'Italia i valori mettere una firma sui moduli che gli richiediamo non vuol dire aderire all'Italia i valori vuol dire aderire a questi quattro referendum che in nome vostro presenteremo la prima settimana di gennaio in Cassazione ma entro quella data dobbiamo raccogliere almeno 500.000 firme e come sapete noi siamo tutte persone di buona volontà che con tanto volontariato facciamo questo lavoro. Senta Antonio Di Pietro, oggi altri tre parlamentari hanno lasciato l'Italia dei valori due deputati, Porcino e Paladini ma anche il senatore Stefano Pedica insomma è crisi per l'Italia dei valori, lei che cosa intende fare ora? Per corretta informazione oggi in Parlamento una trentina di persone di tutti i partiti sono andate da una parte all'altra come ogni fine legislatura ci sono i soliti soggetti in cerche di autore che non essendo riusciti nei cinque anni di legislatura a dimostrare il loro valore per cui si devono ripresentare dagli elettori per chiedere la conferma vanno appunto in cerco d'autore da qualche altra parte oggi una trentina, domani una ventina io dico che è la selezione naturale della specie politica ci auguriamo che la prossima legislatura possa esserci una legge elettorale che dia la possibilità ai cittadini di scegliere chi mandare in Parlamento soprattutto chi mandare a casa e noi dell'Italia dei valori vogliamo cioè che ripartire da una legge elettorale che non dia più in mano solo ai segretari politici la scelta dei candidati perché o può capitare che sbaglia come abbiamo sbagliato tante volte o può capitare che addirittura qualcuno si va a comprare o a vendere il posto non di lavoro ma di Parlamento e cioè con le preferenze di Pietro? io sono più favorevole ai collegi perché in ogni collegio il cittadino può conoscerlo ma certamente o collegio preferenze che il cittadino sappia prima due cose primo, chi va a votare chi è e quindi abbia la conoscenza diretta della persona oggi come oggi si mette una croce e poi chi si è visto si è visto secondo, che quando va a votare si sa che quel voto a quale coalizione lo si dà, a quale candidato leader si dà per quale programma lo si dà in questo momento si sta facendo una legge in Parlamento in cui gli accordi di governo si faranno il giorno dopo e quindi il voto di cittadini verrà venduto al migliore offerente o meglio al peggior compromesso che si può realizzare è questa la posizione dell'Italia dei Valori per cui vorrei ricordare, grazie anche a questa televisione che nell'altro referendum, anche grazie a voi io me lo ricordo quando l'avete sostenuto l'avete informato i cittadini abbiamo raccolto 1.200.000 firme per fare questo referendum per un vizio formale non si è fatto in questo Parlamento invece di cominciare e di mettere all'ordine del giorno questo progetto di legge firmato e sottoscritto da 1.200.000 cittadini lo si mette un altro progetto di legge formato da tre segretari di partiti che devono assicurarsi di poter fare l'inciucio dopo le elezioni e questa Di Pietro è sicuramente una ferita perché dopo quel referendum si sia arrivata a discutere di legge elettorale all'ultimo momento a legislatura quasi conclusa con ogni partito che propone la cosa che gli dà più vantaggi è veramente una cosa difficile da raccontare ai nostri cittadini e alle persone che ci guardano per televisione però io volevo chiederle Di Pietro lei ha detto a fine legislatura ci sono i saldi e i passaggi di Casacca da una parte all'altra e sì soprattutto in questa seconda repubblica è così cosiddetta seconda repubblica ma le volevo chiedere ma lei sinceramente non pensa di avere sbagliato qualcosa nella scelta delle persone ha avuto una serie di scandali nella collocazione politica dell'ultimo periodo del suo più uno rispetto alla sinistra e poi si è trovato schiacciato fra PD e Grillo non si fa un po' di riflessione sulle scelte che Antonio Di Pietro ha fatto? In Di Pietrese naturalmente guarda in Di Pietrese che io possa avere sbagliato e abbia sbagliato per l'amore di Dio non so se avete letto il giornale stamattina ho visto la fotografia del cappellano del carcere di San Vittore che stava dicendo omesso insieme al cardinale Scola qualche settimana fa stamattina l'hanno arrestata perché faceva violenza sessuale con i detenuti e quant'altro quindi voglio dire che ci stavano i dodici apostoli ce ne stava pure uno che si chiamava Giude e che tradiva quindi voglio dire è nell'umane possibilità di essere traditi e di comunque sbagliare come può accadere una cosa è certa che quando è capitato a noi noi dell'Italia Valori al semplice avviso di garanzia lo abbiamo messo fuori dal partito e fuori dalle istituzioni un'altra cosa è certa che in questo momento io il progetto politico dell'Italia Valori che rilancieremo il 15 di dicembre in questa assemblea generale che facciamo è molto chiaro noi a differenza di chi fa mera protesta per esempio il Movimento 5 Stelle che rispettiamo vogliamo costruire un'alternativa di governo e sappiamo umilmente che da soli non ce lo possiamo fare per cui abbiamo stiamo rispettando l'esito delle primarie perché dall'esito delle primarie finalmente all'interno del partito democratico ci sarà un momento di chiarezza cioè si vuole costruire un programma di governo che sia alternativa alle politiche del governo Monti che oggi da cui oggi tutti stanno prendendo le distanze e fino a ieri lo votavano per cui è stato necessario fare 50 voti di fiducia perché altrimenti nessuno votava i suoi provvedimenti oppure si vuole continuare su questa realtà tradotto sul referendum sull'articolo 18 su cui noi stiamo raccogliendo le firme il governo che verrà modificherà l'articolo 18 o dobbiamo completare il referendum sarà dalla parte di Monti o per fare una politica più uguale una politica meno iniqua una politica meno disagiate per i soggetti più deboli sta più vicino alla scuola pubblica più vicino alla cultura più vicino alla sanità pubblica bene noi partecipiamo a queste primarie per fare in modo che vinca quell'area di centro-sinistra che si propone in alternativa al governo Monti se questo ci riusciamo a farlo noi faremo insieme con responsabilità e umiltà questo percorso comune se ci vorranno quindi Bersagno-Vendola questo è il vostro indicazione ad oggi questi soggetti hanno dichiarato che vogliono costruire un'alternativa a Monti ci auguriamo che comunque chi vincerà le primarie possa essere d'alternativa a Monti perché se devo continuare con quelle politiche allora stiate pur certo che io mi farò promotore di una grande aggregazione che dica al Paese date forza per evitare che in Parlamento si continui con queste politiche ragioneristiche che servono soltanto per far quadrare i conti e far pagare il conto ai più deboli e ai più onesti senta Di Pietro in questa grande aggregazione ma anche nel progetto di rilancio dell'Italia dei Valori è previsto un dialogo ma anche un accordo con De Magistris il sindaco di Napoli e il suo movimento arancione De Magistris è stato eletto nell'Italia dei Valori è stato eletto al Parlamento Europeo nell'Italia dei Valori è stato eletto sindaco di Napoli praticamente solo dall'Italia dei Valori perché gli altri partiti anche il PD non l'ha voluto così anche il sindaco Orlando di Napoli quindi l'Italia dei Valori è già abituato a fare delle battaglie di civiltà delle battaglie di coerenza di concretezza mettendo i suoi uomini migliori nelle istituzioni ci auguriamo che anche De Magistris possa raccogliere quest'area appunto del dissenso rispetto alle politiche di Monti e far convergere tutti insieme e aggregarci tutti insieme per fare in modo di convincere all'esito delle primarie il centro-sinistra che è meglio stare con noi per un'alternativa a Monti che allearsi con i cosiddetti moderati che invece vogliono la prosecuzione del governo Monti se all'interno di queste primarie dovesse vincere una realtà che invece preferisce l'inciucio con chi adesso sta dall'altra parte con chi ha appugiato Monti fino all'altro ieri o i governi regionali di Iorio di Formigoni e di Polverino fino all'altro ieri ne prendiamo atto ma noi non demorderemo l'Italia dei Valori con meno personalismo e meno presenza di Di Pietro ma più presenza di tutti i militanti nel territorio ci saremo e ci saremo ancora con tutta la nostra volontà si sceglierà un segretario Di Pietro come? si sceglierà un segretario un coordinatore che non sia lei? io in questo processo costituente e ricostituente in questo congresso che stiamo avviando mi sento come il padre che vede il proprio figlio crescere ogni giorno in più cresce di più l'Italia dei Valori e il giorno che lo vedo camminare da solo sarò come lei quando guarda i suoi nipotini felice? io quando guardo i miei giornalisti ancora nipotino ne ho ma ho i giornalisti bravi e sono felice senta però io devo tornare su quello che ha detto prima mi tocca perché lei si è paragonata a scuola però lo sa meglio di me lì c'è diciamo c'è il Supremo che gli dà la soluzione e tutti i peccati vengono lavati invece lei forse qualche errore l'ha fatto perché per esempio di quella intervista e di quel servizio di report non era grave quante case fossero secondo me ma la sensazione che lei stesso dava di non trasparenza cioè il problema che avevo io da spettatore era politico non giudiziario perché lei è stato assolto non mi interessa se è una casa in più o in meno ma la sensazione che non tutto fosse trasparente in uno che ha fatto della sua trasparenza il punto di fondo la sua intervista me l'ha data mi sono sbagliato la ringrazio di questa domanda però mi creda e lei è un giornalista lo sa meglio come funzioni innanzitutto diamo un'informazione ai cittadini all'esito di quel servizio i cittadini che abbia detto abbia parlato di immobili immobili e quant'altro i cittadini hanno avuto la sensazione che io fossi titolare di 56 case e che addirittura le avessi comprate con i fondi del partito allora al di là delle sentenze è una boiata pazzesca perché io non ho 56 case ma sono proprietario di tre appartamenti della masseria di mio padre poi c'è mia moglie che è proprietaria ma mia moglie viene da una famiglia benestante bergamasca di notai e di avvocati di quattro appartamenti quindi mettere far credere di questa grande proprietà è una bufala pazzesca possono tutti i giornalisti anche lei sarà capitata qualche volta di prendere una bufala ma non sono passati dei soldi da quelli del partito aspetti quella cosa lì non ho capito aspetti le sto dicendo primo quindi togliamo la prima questione che riguarda la quantità perché la quantità già fa impressione io non ci riesco neanche a contare fino a 56 immagino andare tutti i giorni a pagare le spese contaminali 56 case la seconda cosa fosse anche uno non c'è un euro del partito sono tutti fondi di quelle poche cose che ho comprato fondi di un mio lavoro onesto dopo aver pagato le tasse con cui ho comprato o ho venduto uno o due o tre case stabilito questo l'altro problema è un altro e su questo lei ha ragione su questo io non mi sono piaciuto non solo lei però mi creda lei ha fa il giornalista io con chi mi intervistava sono stato due ore e quaranta e abbiamo parlato di tutto mi sono aperto col cuore in mano come mi sto aprendo con lei ma quando spegniamo se lei prende la registrazione e lo dà a un suo operatore e gli dici prendimi soltanto quanto di pietro come al solito gli si inceppa la lingua prendimi di pietro soltanto quanto ha sentito ha sentito che mi stavo impicciando prendimi soltanto i momenti che lo mettono in imparazzo e poi fai un'operazione di tagli e cuci e ci metti una domanda iniziale e una considerazione finale io vorrei vedere che se proviamo anche da questa trasmissione esce un di pietro diverso da quel che sta dando anima e cuore e si sta affidando del suo interlocutore a me non me lo deve dire sa perché quando stavo al tg3 vent'anni fa spiegavo ai miei che in ogni caso mai bisogna tagliare un'intervista ce la dai da punto a punto se ne dai solo una parte riassumi tu il resto e dicendo questo è importante per questo ma apra un buonascuolo allora o apre lei una buona scuola di giornalismo oppure ancora voglio lavorare di pietro oppure oppure prendiamo atto è stato un film un bel film ma che non ha raccontato la realtà la prossima io ho tratto un grande insegnamento che d'ora in poi parlo quando non si può tagliare in diretta perché ci metto io il cuore e l'anima quando quelli tagliano e cuce fanno film non so come vi chiamate amico eccetera eccetera Massimo D'Alema una volta disse che lui preferiva andare in diretta le trasmissioni come porta a porta trasmissioni di questo genere in realtà poi di pietro mi creda su questo c'è ragione Grillo la censura o la interpretazione malevola si può fare anche a secondo di come è organizzato il talk show a secondo di quali sono gli ospiti non c'è bisogno di tagliare però c'è un problema la professionalità del giornalista voi avete il dovere di dire ai cittadini di dare ai cittadini la fotografia della verità non un film che racconta una storia fantastica come la capiamo la verità lei ci deve concedere che ogni tanto abbiamo degli strumenti per capirla io per esempio certe cose le capisco e certe no a proposito le faccio questa domanda perché io non capisco perché capisco bene che lei dice dica io se Monti non ci sta articolo 18 eccetera eccetera voglio andare duro però contemporaneamente la domanda che mi viene da farle è Europa sì o Europa no perché se uno la guarda in chiave europea questo Monti ha una credibilità della malora cioè straordinaria allora forse dal punto se siamo per Europa sì un po' con Monti dovremmo fare i conti o no? Europa sì strasi ma l'Europa ci chiede di far quadrare i conti come farli quadrare? lo dobbiamo decidere noi ci conviene a comprare 140 aerei da compattimento o ci conviene mantenere le nostre truppe in Afghanistan o ci conviene far fronte allo stato sociale di gente che non arriva a fine mese anzi non c'ha un tozzo di pane per mangiare la sera questo è il tema allora come li si spende quei pochi soldi che ci abbiamo e come si arriva a recuperare i soldi quando ci mancano dagli esodati o dagli scudati fiscali capisci a me? grazie Di Pietro arrivederci alla prossima c'è inna grazie a tutti